Sì, io sono d'accordissimo anche perché c'è una situazione un po' di degrado, soprattutto di sera, tra i tossici e quant'altro. E penso che sia una cosa migliore, insomma. Quindi si sentirebbe più al sicuro? Sì, sicuramente sì. Non sono d'accordo per questa questione qua. Come mai non è d'accordo? È perché è comodo, insomma, va vicinamente, eccetera, al centro, secondo me, un po' dopo. E poi anche caratteristica, lungo il sile, non è giusto. Lasciano bottiglie, lasciano di tutto, per quello. No, per me andrebbe bene, ma non so se tutti sono d'accordo. Sì, un po' meno di una volta, però vedo che delle volte passo di qua e ci sono ancora. C'è inutile. Loro ormai hanno i vari posti. E mi spiace per voi che siete giovani, perché non so cosa vi aspetta, ma sinceramente.